Non è bastardo Quindi è dentro? Se è dentro non lo so magari prendeva il polo interno però Pantano ha preso lo stesso Però non è bastardo Ci dispiace perché era una partita che andava vinta però erano più del primo e le colpe sono nostre però noi andiamo avanti per salta e non ci rendiamo adesso Ci mancherebbe I conti si fanno a fine anno Com'era la atmosfera dello spogliatorio? C'era il grande rammarico penso sia normale Ripeto questa partita andava vinta però anche per i meriti di Proviacenze poi abbiamo giocato un tempo in 10 che non è facile abbiamo preso questo gol da una pari inattiva fino ad allora ci eravamo comportati bene in qualsiasi situazione arrivavamo subito il giusto penso peccato perché ci sta girando per il verso giusto in questo momento C'è anche un problema fisico sto da te vedendo i ragazzi più Poi lì rispetterà mister per il fattore atletto io non me la sento di esprimere un giudizio sul fattore fisico atletto grazie